La cosa che più ho apprezzato è che ogni volta magari che si aveva qualche dubbio, si aveva qualche incertezza, bastava chiedere anche semplicemente un amico, un compagno di corso, oppure quando si andava ad esempio a partecipare ai concorsi, a partecipare ai test, c'era sempre il gruppetto cordo di 40-50 persone, in cui tutti quanti ci conoscevamo. Quindi era una sorta di grande famiglia, in un ambiente in cui mi trovo molto a viaggio. Ho avuto tanti successi, tante soddisfazioni e chiaramente la prima, che sarebbe anche la scelta che poi ho avuto per l'università, perché frequento adesso la Cattolica in inglese, è stata appunto l'Università Cattolica in inglese, poi è stata la San Raffaele in italiano, San Raffaele in inglese, Umaitas in inglese, San Camillo in inglese, Campus Medico in italiano e in inglese, e cattolica in italiano. E poi è stata appunto sia in inglese sia in IMAH, sia in italiano sia in inglese in IMAH. Quindi sì, tantissimi successi e sono stato veramente figlio di quello che ho raggiunto. Straordinaria come parola, perché veramente mi sono trovato perfettamente a mio agio. Ho avuto tutto ciò che volevo, tutto ciò che necessitavo, non avevo nessuna mancanza, nulla. Quindi è stato un corso perfetto a tutti gli effetti e che, diciamo, se potessi ricomincierei da avere le stesse emozioni, i stessi rapporti che ho creato. Quindi sì, mi si trova molto 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 bene. Grazie. 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 Grazie.